Maria Giovanna Maglia, le piazze di oggi, le parole di ieri. Tu che cosa hai visto nelle piazze di sabato che torneranno a riempirsi? Mercoledì è prevista una grande adunata in Piazza del Popolo, alla quale peraltro hanno già dato la loro adesione anche i numerosi parlamentari della Lega. Alcuni punti li voglio mettere in ordine. Mercoledì c'è una manifestazione senza bandiere di partito, alla quale aderiscono uomini liberi e donne libere. La maggior parte, anzi tutti quelli che mi stanno chiedendo se parteciperò a questa manifestazione, sono vaccinati, tanto per sgombrare il campo dall'idea che quelli che sono scesi in piazza sabato siano tutti no vax. Per carità, quando c'è una manifestazione che secondo me denotava grande preoccupazione e grande stanchezza. Quanto alla disinformazione che denunciava Geremica, posso essere d'accordo, ma l'informazione è da chi viene, se non dal governo, se non dai media, se non dai virologi. Quindi se c'è disinformazione qualcuno dovrà farsi una domanda e darsi delle risposte autocritiche, compresi tutti noi. Detto questo, in quelle piazze è inutile sottolineare che ci fossero Casa Pound e i fascisti, perché certamente dentro quelle piazze c'era, come abbiamo sentito, di tutto. Ma essendoci di tutto, forse va guardato con attenzione e non col sopraccio. Forse va guardato come una manifestazione nella quale, come ho detto prima, c'è una minoranza che è quella fissa dei no vax. Avete mostrato ora un servizio in cui si vede che storicamente i 5 Stelle sono un movimento no vax, loro e solo loro. Poi all'interno della società italiana ci sono delle fasce trasversali di persone, e io mi ci iscrivo, che ritengono che il numero di vaccini obbligatori che sono stati introdotti in Italia sia eccessivo, tale da indurre sospetto. Non è che il sospetto è sempre complottismo, è sempre essere etrogloditi, è sempre credere alle fake news. Il sospetto è uno degli elementi della critica di cui dispone l'intelletto umano. Quindi, tornando al discorso di prima, il Green Pass ce l'hanno solamente. La Francia, l'Italia è una regione della Spagna. Germania e Inghilterra lo hanno escluso come hanno escluso qualunque obbligatorietà. L'obbligatorietà del vaccino e del Green Pass c'è se non vado errata in Turkmenistan. Da chi prendiamo esempio? Come funziona questa Unione Europea? A giorni alterni, a momenti alterni? E la storia dei ragazzini, dei minori, la vogliamo prendere sul serio o no? Io ho letto ieri sera un comunicato del governo inglese che dice che attualmente ritiene che vaccinare sotto i 18 anni comporti molti più rischi che vantaggi. Perché invece facciamo finta che non sia così? Infine, l'ultima cosa, e poi chiudo, l'applicazione di questo Green Pass, come ha detto il povero ristoratore, già massacrato a stufficienza, come tutti i piccoli imprenditori e le partiteve, è inapplicabile. Per due ragioni. La prima perché crea degli ingorghi. La seconda perché, aspetta solo un attimo, la seconda perché respinge la produttività, l'economia, l'andare a consumare. La terza perché, non lo ribadirò mai abbastanza, io, consumatore, cliente, devo avere il Green Pass. Il cameriere non lo deve avere necessariamente. Questa è follia. Allora, questa è una contraddizione alla quale sarà chiamata a rispondere la politica. Prima di arrivare a lei, però...